Quasi 70 anni di reclusione in tutto per l'operazione San Silvestro fu un'operazione del comando provinciale della Guardia di Finanza di Brindisi, ma investì con denunce e arresti anche diversi leccesi. L'accusa è per lo spaccio di droga che dall'Albania veniva sbarcata sulle coste salentine. Il processo si è ottenuto con il rito abbreviato per 10 imputati. L'imai Alban, un albanese di 33 anni, è stato condannato a 16 anni di reclusione ed è stata questa la condanna massima. L'operazione portò al sequestro all'ora di quantità ingenti di droga, 3.750 chili di marijuana, 50 di hashish, oltre un chilo di cocaina e un chilo di eroina. Al momento dell'esecuzione furono arrestati 15 uomini e ne furono denunciati altri 24. Nel corso del dibattimento processuale però è caduta l'aggravante della trasnazionalità che avrebbe portato a pene maggiori, così come aveva chiesto la pubblico ministero della Lidia Giovanna Cannarile.